Io credo che quello che ho sempre detto, cioè che ci voglia un difensore sinistro, un difensore centrale che non è una esigenza immediata, ma c'è un'esigenza di crescita. Ho ridiscusso ulteriormente con Cannavaro e i suoi rappresentanti la sua presenza qui a Napoli dove lui voleva un quarto anno e ci siamo messi d'accordo, gli ho fatto una proposta anche per il quarto anno, adesso la palla ce l'ha in mano lui. Se ama veramente Napoli, dopo quello che gli ho offerto, sarebbe assurdo che non accettasse, se poi le sue aspettative sono altre e allora scegliesse la strada che vuole. Io spero che scelga la strada del cuore, quella che insieme io e il suo procuratore abbiamo discusso e negoziato proprio in un salotto qui la settimana scorsa. Io ho detto, senti io ti ho fatto una proposta, adesso te la miglioro, dice no non va bene, vabbè te la miglioro ancora, eccola qua, questa è l'ultima, prendelo a lasciare. Quindi io ho fatto non un passo avanti, ho fatto tre passi avanti e nessun passo indietro. Erano presenti i bigon, era presente il direttore generale Fassone, quindi non c'è possibilità di smentita.